Che cos'è un team o una compagnia? Una chat su whatsapp o un gruppo su telegram? Perché dovremmo avere delle aspettative? Buongiorno, buongiorno o buon caffè? Ci creiamo a volte aspettative sull'appartenenza a un gruppo comune. Che sia una squadra sportiva, che sia un'associazione che racchiude magari tutti coloro che sono interessati alla lana caprina. O un gruppo su telegram nel quale si discute con passione e con aiuto di un argomento professionale o anche di divertimento. Ci si pone delle aspettative perché si ritiene che quella appartenenza comune, quel valore comune, in realtà alla fine finiscano per creare una profondità di valori, di condivisioni, che nella realtà non accade mai. È perché stiamo sovraccaricando di aspettative il gruppo o perché il gruppo è nato in modo sbagliato? Dipende da quelle che sono le necessità del gruppo, quelle che sono le richieste del gruppo, quelle che sono le promesse del gruppo. È chiaro che da un gruppo su telegram che discute per esempio di vendita posso aspettarmi dei commenti sulla vendita, dei contributi sulla vendita, ma non necessariamente una comune visione di idee su quello che è la vita. Questo è un punto chiave. Dipende da quello che è il valore di fondo che ha unito il gruppo. Chiaro, se sto parlando di colleghi di lavoro, se sto parlando di associazioni che hanno implicito nel loro statuto, nel loro stare insieme, dei valori di fondo che riguardano la vita, è evidente che ci deve essere un legame di tipo valoriale, profondo. Nell'altro caso invece no. Ma questo è un elemento interessante sul quale riflettere perché ci fa capire quanto bisogno abbiamo di compagnia. Cos'è una compagnia? A me viene subito in mente la compagnia dell'anello, dove persone anche molto diverse fra di loro, nella fattispecie neanche tutti uomini se stiamo alla narrazione del Signore degli Anelli, però hanno uno scopo comune e su questo scopo comune riescono a costruire delle amicizie. Su quale base costruiamo amicizie, gruppi, associazioni o ci identifichiamo con questi o ci ritroviamo con questi? Ad esempio, qui, nella Repubblica di Content Marketing, perché ci stiamo? Che cosa chiediamo? In che modo questo diventa un'appartenenza come potrebbe essere quella di un particolare tipo di tifo per una squadra? Qual è il modo con il quale finiamo per tessere delle relazioni non solo personali ma tra gruppi di persone? Forse è l'occasione questa, cominciando da me, per farci qualche domanda. Buongiorno e buon caffè!